In Consiglio regionale si sta cercando, si è parlato del portavoce dell'opposizione, ma il problema è quello che sembra che sia difficile mettere insieme le diverse anime dell'opposizione. È un momento sicuramente di difficoltà, come devo dire tutta la politica sta vivendo in ogni schieramento di centro-sinistra e centro-destra. Credo che ora le elezioni regionali saranno la giusta sintesi, ci permettano di inserire intorno a un tavolo, di analizzare la situazione e di decidere anche sulla persona più giusta da candidare tutti insieme, come io credo, e come si sta cercando di fare ora anche per le elezioni in Calabria e in Emilia Romagna, che sono a fine novembre, e riusciremo a trovare un candidato. In questo momento è la fase dove ognuno deve fare i suoi annunci e fa parte della politica, di cercare di attrattare gli elettori, però arriverà un momento, io credo il momento giusto sarà probabilmente fra ottobre e novembre, fino a ottobre e inizio novembre, per vedersi a un tavolo e ragionare di politica e pensare al programma dei regionali e al candidato, ognuno senza fare nomi, noi dobbiamo invece ragionare prima sulle idee e poi andremo sulla persona. Anche perché la legge elettorale così com'è impone alleanze? La legge elettorale secondo me impone alleanze, ma soprattutto porta finalmente a un sistema elettorale chiaro, l'obiettivo come sta accadendo anche con l'Italo a livello nazionale è andare a un sistema quasi tripolare, dove la scelta sia chiara per gli elettori, per evitare che ci sia uno spargimento di partitini che poi finisce solo per ricattare i grandi partiti e non produrre poi una politica giusta, né in ambito economico né in ambito organizzativo dell'ente stesso, per cui per come la vedo occorre sedersi e ragionare su quelli che sono gli aspetti futuri, sapendo sì che forse qualcuno, qualche partito può avere problemi con altri per attriti vecchi, però basta ragionarne e credo che in questo momento l'obiettivo sia uno, riuscire a battere Rossi possiamo farcela, c'è una situazione di difficoltà, Rossi è il nostro migliore avversario, mi avviso, perché ne va da difendere tante di questioni, sotto tanti punti di vista, anche questioni particolari, mi viene in mente la questione della concordia che lui ha voluto difendere per mesi e mesi e mesi e poi ha battuto contro un muro in tutti i sensi, per cui credo che sia facile per noi fare una campagna elettorale con lui, il problema è che, lo dico a battuta, ci sarà Rossi tra sei mesi? Io ho dei dubbi francamente, però… Grazie a tutti!